nel mentre anche su youtube per chi volesse e trovasse il coraggio di iscriversi al canale allora ci siamo ci siamo aspettiamo qualche secondo ancora e poi inizio questa diretta così veloce e fugace una toccata e fuga aspettiamo che vi collegate il mio pensiero intanto iniziamo dai iniziamo ci siete mi sentite perfetto allora il mio pensiero innanzitutto va a fetes dopo lo scivolone che ha fatto e durante la trasmissione mucchio selvaggio nel quale ha ditato e mostrato con idea ha mostrato il telefoto di un'altra di uno che gli scriveva e magari lo offendeva un certo davidone peccato però pensate sentite qua che bello il bello che questo davidone che mostrava nella foto del telefono così davanti a tutti era un altro cioè quindi l'ha mostrato la foto di un altro quindi un'immensa superficialità da parte di fetes ma perlomeno se tu ti fai una cosa del genere che si chiama shitstorm verso una persona e non se fa mai perché tu c'hai tre milioni tre milioni di di follower scusa ma scusatemi 30 milioni di follower tra te e tua moglie e non se fa mai una cosa del genere tua come se fai una guerra e tu gigante contro una formica e non va bene non se fa già una cosa sbagliata ma oltretutto tu che fai sbagli pure la foto ora vai a pagare quella c'è avuto una gran fortuna perché adesso con tutti con tutti gli avvocati ti toglierà purtroppo mi dispiace per te i soldi e non si gode su questo però la tua è stata una mossa molto 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 superficiale cioè la stessa che che vediamo nella nella questione beneficenza e coi panettoni che non sapete non sapete non sapete è superficialità quella carose caro fedex mi dispiace dirtelo ma questa testo davidone la storia testo davidone proprio stiamo proprio all'emblema della superficialità non si può cioè tu a quel livello tu stai a quel livello fedex non te poi permette di fare un scivolone del genere non puoi proprio sbagliare pure persona cioè ma come fai come fai tu diri una valanga di merda scusa del termine verso uno che non c'entra proprio niente ma se devi farla perlomeno informate informate tu rappresenti questo sistema tutta la super c'è a sto punto allora io mi faccio una domanda tutto quello che tu propinavi sui tuoi social ecco quanta per quanta superficialità lo studiavi quando ti mettevi là e osannavi la legge zan ma tu sapevi almeno che cosa significava dopo tutto questo che sta che sta uscendo fuori i tuoi comportamenti così superficiali tu riesci a capire le certe tematiche che riguardano il paese il paese oppure non ci arrivi cioè questa è una domanda che io mi pongo ma penso che la poniamo la maggior parte degli italiani tu c'hai 30 milioni di follower e se non sei in grado nemmeno di capire chi è quello che vuoi che vuoi che vuoi fargli passare un brutto quarto d'ora con una shit storm e mostri la foto di un altro come fa e mette bocca sulla politica italiana è questo che io mi domando ma spero che sto domandino in tanti italiani e sto domandi pure qualche giornalista e se ponga sto dubbio enorme come fa come fa lo ripeto uno che c'ha 30 milioni di follower tra lui e sua moglie e agire in questa maniera così superficiale poi poter mettere bocca e avere credito sul dibattito politico italiano dimostri soltanto superficialità e quindi tutto quello che tu dici parlando di politica è solo superficiale a sto punto io penso per forza questo qua e la maggior parte degli italiani penserà sta cosa qua mi dispiace per te te lo dirà uno come me che ha detta di persone come voi è troglodita è un ignorante è un uomo di un uomo da strada scusate però è la dura realtà caro fetes troppa superficialità troppa superficialità ragazzi buona giornata mi raccomando e stasera alle 19 e 30 non mancate all'appuntamento con senza censura quella che piacerebbe mettere tanto a fetes agli altri